Oggi Lida, Maria Lucia e Silvana vengono alla loro casa di famiglia, l'acquista Pasqualino. Li vuoi conoscere? Vieni con me! Allora Pasqualino? Beh ce l'abbiamo fatta, dopo una bellissima trattativa siamo giunti. Bene, quindi oggi sei proprietario della nuova casa? Sì, sì. Pronto a fare i lavori? No, prontissimo. Benissimo. Ok. Già, io mi sono prenotata a Rosticini. Sì, ma noi lo diciamo però in mondo visione. Ah no, no, è vero, è vero. No, niente a Rosticini, niente a Rosticini. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao.